Manifestazioni contro la buona scuola, indagato Mauro Pili, il deputato di Unidos è indagato dalla procura di Cagliari per aver promosso, senza aver informato il questore tre giorni prima, alcune manifestazioni. Sono indignato e molto molto seccato, trattato come un criminale, ha scritto sul suo profilo Facebook Mauro Pili. Vertenza Saremar, l'assessore regionale stasera Carlo Forte, l'esponente dell'esecutivo, parteciperà alla seduta aperta del Consiglio Comunale e incontrerà i marittimi che da giorni protestano contro licenziamenti sul campanile della Chiesa. Carboni a cantiere infinito in piazza rinascita, i cittadini si dicono insoddisfatti dei lavori, non capiamo il senso delle due isole in San Pietrini realizzate all'estremità della piazza e vorremmo capire quando termineranno le opere. Pareggio in trasferta per il Carboni a calcio, 1-1 sul campo del Senorbi per il Bianco-Blu, la Monteponi vince per 4-0 contro il Siliqua, mentre pareggia il Carlo Forte e perde l'Atletico Narcao. Bentornati su Canale 40, apriamo con una notizia che riguarda il deputato di Unidos, Mauro Pili, che è stato indagato dalla procura di Cagliari per aver promosso, senza aver dato tre giorni prima informazioni al questore, tre proteste degli insegnanti precari. Lo fa sapere lo stesso parlamentare dalla sua pagina Facebook pubblicando anche uno stralcio dell'avviso di garanzia che gli è stato notificato. Sono indignato e nel contempo molto molto seccato ha detto trattato come un criminale. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente, sentiamo. essere trattati di fatto come un criminale, nel senso che nel provvedimento c'è scritto qui avrei perseguito un disegno criminoso nell'organizzare le riunioni e le assemblee con i precari della scuola. Credo che sia un fatto grave sul piano politico perché io non voglio racchiudere questo soltanto su un piano giudiziario. È chiaramente un'intimidazione che viene fatta non soltanto a un parlamentare ma credo a tutti coloro che vogliono in qualche modo far sentire la propria voce. Non è il tema del deputato. Il tema è che la libertà di incontro, di opinione, di manifestazione, di protesta viene così duramente minacciato da un provvedimento giudiziario che apre un fronte, sono ad oggi davvero inesplorato. Se ogni riunione con 30, 40, 50 persone dovesse essere sottoposta a questo tipo di repressione è evidente che siamo di fronte a uno Stato che non lascia la possibilità di discutere nemmeno su temi importanti come quello della scuola. Anche perché lo vogliamo ricordare sono state manifestazioni dove hanno partecipato circa 100 persone per volta e il tutto si è svolto in maniera molto civile e regolare nel senso che più di aver esposto degli striscioni non mi è parso di aver colto altri elementi disastrosi. Non c'è stato nessun tipo di problema per l'ordine pubblico e della bellugia da noi crearne. si è posto il problema in maniera molto netta e molto chiara di essere ricevuti dalla Regione in tempi utili per bloccare quello che stava avvenendo. C'è una deportazione in massa dei docenti sardi verso il resto dell'Italia e questo è quello che noi chiedevamo con urgenza alla Regione. Quindi tutte le riunioni si sono svolte in maniera assolutamente conseguenziale perché vi era l'esigenza di dare risposte a un tema che aveva delle scadenze ben precise. Quindi anche volendo era impossibile dare delle scadenze. Certo, è stato questo il motivo del mancato avviso al questore? L'emergenza? A parte l'emergenza ma il fatto che queste riunioni fossero assolutamente riunioni prive di qualsiasi inconsistenza sul piano dell'ordine pubblico. Se avessimo avuto idea di dover fare manifestazioni che avessero alterato sostanzialmente il traffico o l'ordine pubblico ne avremmo dato evidentemente notizia. La stessa Costituzione prevede di non dare nessun tipo di notizia di riunioni e di manifestazioni che non comportino nessun problema per l'ordine pubblica. Dopo i numerosi disagi causati dal maltempo e le varie allerte meteo diramate negli ultimi giorni dalla protezione civile arriva uno studio condotto dai geologi sardi. In Sardegna 128 aree urbane sono state realizzate in fasce di pertinenza fluviale. Ebbene 198 comuni su 377, quindi più della metà, non si sono ancora dotati di una pianificazione sul rischio idrogeologico e ad affermarlo è Davide Boneddu, presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna. I dettagli in questo servizio. In Sardegna 128 aree urbane sono state realizzate in fascia di pertinenza fluviale e ben 198 comuni su 377, ovvero più della metà, non si sono ancora dotati di una pianificazione sul rischio idrogeologico. Lo afferma Davide Boneddu, presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna. Questi dati evidenziano, ha spiegato Boneddu, l'urgente necessità di un ulteriore sforzo da produrre nella direzione di una sempre maggiore capillare diffusione della cultura delle norme di autoprotezione e delle azioni da intraprendere sulla scorta dei piani di protezione civile allorquando si verificano fenomeni calamitosi. E proprio i geologi sardi scenderanno in campo in occasione della settimana del pianeta Terra con una serie di conferenze sul disesto idrogeologico con le quali incontreranno i cittadini. L'obiettivo della settimana del pianeta Terra, che sarà in programma in Italia dal 18 al 25 ottobre è detto in una nota, è quello di avvicinare l'opinione pubblica alla ricerca e alla geoscienza tutte per avere una società informata. Non solo Sardegna, ma tutta l'Italia sarà protagonista con 237 eventi da nord a sud più di 600 ricercatori impegnati per fare in modo che le geoscienze possano entrare nelle case degli italiani 150 escursioni, più di 80 appuntamenti tra conferenze e attività all'aperto. La settimana del pianeta Terra è organizzata da due ricercatori italiani Rodolfo Coccioni dell'Università di Urbino e Silvio Seno dell'Università di Pavia. Parliamo adesso della vertenza Saremar, un'altra notte sul campanile della chiesa di San Carlo Borromeo a Carloforte per i dipendenti della compagnia di navigazione che respingono i licenziamenti stabiliti appunto dalla Saremar controllata al 100% dalla regione. I dipendenti hanno detto di sentirsi soli in questa protesta e di essere stati abbandonati dalla politica. Questa sera intanto alle 17 nel municipio della cittadina Tabarchina si svolgerà una seduta aperta del Consiglio Comunale alla quale parteciperà anche l'assessore regionale ai trasporti Massimo Deiana. Piazza Rinascita a Carbonia sembrerebbe un cantiere infinito dopo un inizio travagliato in forte ritardo tra le proteste dei commercianti e abitanti. La città infatti ancora non vede la fine dei lavori. A bordo strada sono stati abbandonati dei detriti e delle macerie all'interno di un recinto. Nel frattempo la popolazione continua a subire i disagi di questa situazione che ormai va avanti da alcuni mesi. Proprio questa mattina abbiamo intervistato alcuni cittadini. Sentiamo cosa ci hanno risposto. Ha visto come hanno fatto la nuova piazza, la piazza Rinascita qua dietro? Le piace la nuova pianificazione? È bello, non è che sia brutto, ma queste mattonelle non vanno. Sicuramente si può fare qualcosa di meglio, ma non capisco queste san pietrini. No, assolutamente, non vedo proprio, perché è terminata così in pratica, più o meno è questa qui la pietra. Ci sono scienziati che pensano, fanno i lavori per noi, magari non chiedono un parere alla popolazione. Mi pensa che dovrebbero chiedere il parere alla popolazione prima di fare dei lavori? Siccome ci sono delle piazze che mi sembra che c'è da stare un pochettino perplessi, ci sono delle piazze che con Carbunia forse, pur essendo una città giovane, lascia il tempo che trovo. Ripeto, sicuramente si poteva fare qualcosa di diverso. La piazza non è terminata, penso, perché il progetto qui non se ne vede, almeno che sia leggibile per il pubblico. Quindi se dovesse restare così, lei sarebbe soddisfatto o no? No, così è una mezza partita. Non si capisce dove inizia la piazza e dove finisce il marciapiede e per quali motivi hanno fatto queste cose qui. I detriti sono un pericolo, un rischio e poi sono poco consoni alla piazza, non rendono giustizia a quello che potrebbe essere tutto l'insieme, piazza e giardini e cose del genere. Vista così, sa tanto di un'incompiuta. Non sono a conoscenza di quello che sia il progetto definitivo, per cui, logico, guardandolo così il giudizio può essere solo negativo. Mi sembra un obrobrio questo. Perché? Perché è stato inutile quello che hanno fatto, perché sarebbe andato meglio quello che c'era. Parliamo adesso invece del canone della RAI. C'è la proposta da parte del governo di inserire la tassa sul canone nella bolletta della luce in modo che tutti i cittadini lo paghino. Il governo ipotizza anche una riduzione della tassa da 113 euro a 100 sulla proposta del governo Renzi. Abbiamo voluto sentire anche il parere dei cittadini. canone della RAI. C'è una proposta da parte del governo di inserire questa tassa all'interno della bolletta della luce. Che cosa ne pensa? Ma guardi, io penso che non va bene così. Diventerebbe un pasticcio ancora di più. Poi, non lo so, io su queste cose non è che... Io pago sempre perché sono una di quelle che ho sempre paura di tutto e pago ogni cosa. Però mi sa che se ne stanno approfittando troppo. Poi ci sono quelli che non pagano il canone. Ecco perché alla fine stanno facendo questo. Penso che l'obiettivo sia quello di far pagare a tutti il canone. Se è vero che lo inseriscono all'interno della bolletta, il pagamento. Secondo lì, è meglio? Non lo so. Dipende dal grado di evasione che pure ci può essere. Penso che potrebbe essere positivo. Se venisse abolito il canone sarebbe ancora meglio. Si parla di una riduzione da 113 a 100. E' una cosa ridicola, 13 euro. Dovrebbe essere abolito perché con la pubblicità penso che riescano a guadagnare tanto da poter eliminare questo benedetto canone. E chi non ce l'ha il televisore? Paga lo stesso. Deve fare dichiarazioni, chiedere che non sta... Oddio, da un certo punto la trova anche una cosa giusta, che almeno così lo pagano tutti. Però per chi non ce l'ha e chi non può pagare. Si parla di una riduzione della tassa da 113 a 100 euro. Ah, no, allora stiamo bene, no. Sì, stiamo da Dio, allora stiamo da Dio, sì. No, se è così pago anche di più io. Ma nella bolletta della luce, se uno poi non riesce a pagarla, gli staccano anche la luce. E per combattere l'evasione? L'evasione si combatte, secondo me, facendo controlli, vero controlli, non una persona che fa un controllo e controlla dieci persone. O si fanno i controlli o non si fanno. Non è una brutta idea, non è una brutta idea. Vero? Sì. E chi non ha il televisore? Ma ce l'abbiamo tutti. Magari non lo dichiarano, chi ce l'ha e non lo dichiara. No, gli evasori ci sono sempre, no? Però voglio dire, per chi è in regola, mi sembra che sia una cosa giusta. Genitori, educatori, dirigenti scolastici, docenti e sacerdoti si confronteranno sul tema dell'affettività e della sessualità tra gli adolescenti nell'era di internet in un convegno organizzato dal gruppo SOS Famiglia. Il convegno pubblico, in programma per giovedì 8 ottobre alle 17, all'Ipsia Ferraris d'Iglesias, sarà tenuto da Ezio Aceti, psicologo dell'età evolutiva e saggista di fama nazionale. La partecipazione sarà completamente gratuita. Una buona notizia che riguarda la nostra isola, l'acqua minerale smeraldina infatti prodotta in Sardegna è stata annoverata tra le 10 migliori acque minerali del pianeta dalla rivista americana Gayot che da quasi 50 anni è un punto di riferimento autorevole per gli amanti del buon vivere di tutto il mondo e stila classifiche riguardanti i vini, la ristorazione, il cibo, gli alberghi, i viaggi e il benessere in generale. Di recente ha inserito appunto l'acqua smeraldina nella top 10 assoluta. Un riconoscimento importante per un marchio che da sempre rappresenta l'eccellenza in Sardegna che proprio quest'anno celebra il suo trentesimo compleanno. La smeraldina, lo ricordiamo, viene estratta in gallure, imbottigliata a Tempio Pausani ed è filtrata naturalmente dalle rocce granitiche che le conferiscono grazie agli oligoelementi caratteristiche salutari e rinfrescanti. La Alba S.p.a. è stata fondata nel 1985 da Giovanni Maria Solinas che oggi con i suoi cinque figli porta avanti il sogno di una vita. L'Università Popolare delle Sulcis e Sischiglia Onlus con il patrocinio della Società Umanitaria di Carboni Iglesias presenta oggi alle 16.30 alla miniera di Serbariu la conferenza di Ignazio Macchiarella, professore ordinario di etnomusicologia all'Università di Cagliari che parlerà del tema la musica in scatola. Una discussione su musica, disco, radio, tv insomma sulle abitudini di ascolto musicale quotidiano. E infine diamo uno sguardo alla pagina sportiva per noi a Ligi Sece e Alessia Pinna. Nella terza giornata del Girone A del campionato di promozione il Carbonia è andato molto vicino alla prima vittoria stagionale. I ragazzi di Mister Marongio sono tornati dalla trasferta di Senorbi con un 1-1 dopo essere stati in vantaggio per tutto il secondo tempo grazie ad un gol di De Gradi. Il pareggio dei padroni di casa è giunto solo al primo minuto di recupero. La Monteponi ha archiviato la pratica siliqua con un rotondo 4-0 frutto delle due doppiette di Sanna e Alessio Meloni arrivate nella ripresa. Pareggio casalingo per il Carlo Forte contro la Frassinetti dopo essere stati in svantaggio ci ha pensato il solito Cimmino a trovare il gol dell'1-1. Terza sconfitta consecutiva invece per l'Atletico Narcao sconfitto in casa dalla Villa Cidrese per 2-1. Di Elias la rete dei Sulcitani In prima categoria il Villa Massargia ha battuto per 1-0 il Pirri con un gol di Farci. Pareggi esterni per il Tratalias 1-1 a Sinnai con rete di Lenzu e per l'Iglesias 2-2 in casa del Cus Cagliari. Dopo essere stati in vantaggio per 2-0 con i gol di Pinna e Amadin. L'Europa 2008 dopo essere stata in vantaggio per 1-0 dal primo minuto di gioco è stata raggiunta e superata per 2-1 al terzo minuto di recupero. È iniziato ieri anche il rifondato campionato di seconda categoria che comprende anche le squadre della ex terza categoria con le compagini Sulcitane inserite nel girone C. Vittorie per Villa Peruccio, Flumini Maggiore, Musei, Atletico Masainas, SB Bacuabis e Teulada. Non disputata a Gonnesa Cortoghiana per indisponibilità del campo dovuta alle forti piogge dei giorni scorsi. La gara dovrebbe recuperarsi martedì pomeriggio. E con lo sport è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40 e vi lascio adesso con le previsioni meteo e poi in OAS in curso il nostro telegiornale in sardo. Arrivederci. Previsioni per domani, martedì 6 ottobre. Poche nubi, vento da ovest e sud-ovest con intensità di 20 km orari. Rafiche fino a 27 km orari. Temperature minime comprese tra 18 e 21 gradi e massime comprese tra 25 e 28 gradi.